Oltre Po Voghera parte la campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2016-2017 e se fai l'abbonamento partecipi all'estrazione di un viaggio di 5 giorni per 2 persone. Per informazioni contatta ora al numero 0383 366215 o scrivi a oltrepovogheramarketing.com Sabato 27 agosto alle ore 17.30 presso l'associazione Voghera E di Via Felice Cavallotti si svolgerà l'incontro con il professor Teresi Anardi, fiduciario di Slow Food Italia oltre che esperto nelle produzioni tipiche o tre padane. Siamo qui oggi proprio con il professor Anardi. Buongiorno professore. Buongiorno. Da cosa nasce questo incontro? L'incontro nasce perché Voghera mi ha chiesto di intervenire nell'ambito delle sue attività e visto che siamo in prossimità del Salone del Gusto di Torino ho pensato di presentare l'evento. Evento che quest'anno ha come tema centrale il voler bene la terra è la terra e voler bene la terra vuol dire tante cose. Vuol dire intanto ridare dignità alle piccole produzioni agricole, piccoli artigiani, piccoli imprenditori che lavorano sostenendo ancora quelle che sono le caratteristiche ambientali e ridare dignità al cibo buono, pulito e giusto che è importante per la tutela dell'ambiente e della nostra salute. Appunto sulla questione del valore della dignità come recita appunto l'alcanina dell'evento quanto è importante dare oggi questi valori a chi si prende cuore ogni giorno del pianeta e cosa bisogna fare che già non viene fatto per tutelare contadini, pastori, artigiani e piccoli pescatori? Ma dunque oggi l'uomo sta sicuramente, l'umanità sta distruggendo quel poco che resta della biodiversità. Io dico sempre nel secolo precedente abbiamo avuto nei primi 50 anni una guerra mondiale che ha distrutto molto e negli altri 50 anni noi abbiamo fatto molto per distruggere il resto. Stiamo perdendo molto di quella biodiversità che è fondamentale per la sopravvivenza del pianeta. Ora, valorizzare la piccola agricoltura vuol dire oggi fare tanto per i territori collinari che rappresentano l'80% del territorio italiano. Una collina che stiamo perdendo, una collina dove ancora oggi si produce tanto e potrebbe produrre molto di più e potrebbe anche dare posti di lavoro producendo in modo pulito, sostenibile per l'ambiente e per la salute di tutti. Noi pensiamo alla nostra Valle Staffora. Tanti terreni incolti, tante buone potenzialità produttive, un paesaggio bellissimo che sotto l'aspetto turistico dovrebbe ancora oggi essere valorizzato e gli agricoltori di queste zone, se opportunamente tutelati e valorizzati, potrebbero fare molto per questo.